Buongiorno, benvenuti alla seconda edizione della giornata della trasparenza online della nostra provincia, della provincia di Monservianz. Questo rappresenta il nostro modo smart per interpretare in chiave innovativa, e ci auguriamo interessante per tutti noi, uno dei compiti che il legislatore assegna agli enti pubblici in tema di trasparenza. Cos'è per noi la trasparenza? La trasparenza è innanzitutto uno stile di lavoro che traduciamo quotidianamente nelle attività di redazione e di controllo degli atti, nel monitoraggio dei servizi che rivolgiamo ai comuni e ai cittadini, nella misurazione delle performance relative al nostro lavoro. La provincia paga i suoi fornitori con tempi vicini ai 20 giorni lavorativi o per verificare i tempi medi sui procedimenti. Noi stiamo vivendo un momento di grande trasformazione, la nostra provincia sta provando a rivedere la mission istituzionale con grandi fatiche, con grandi impegni, però l'impegno all'efficienza e all'efficacia dell'ufficio e del nostro agire resta confermato, un impegno che noi portiamo avanti con serietà, con concretezza e con rigore. Va in questa direzione anche il paziente lavoro di ricognizione, di raccolta, di catalogazione dei dataset che trovate nella sezione web open data, un lavoro con il quale la provincia ha aperto metaforicamente i propri cassetti per rappresentare ai comuni, in primis, ma anche ai cittadini, agli stakeholder istituzionali, i contenuti di maggior rilievo e di maggior interesse. Si tratta certamente di un primo step, ne seguiranno altri, per accompagnare da vicino il delicato processo di riforma in atto e per confermare l'impegno di un ente utile e vicino qual è la provincia di Montsebriazza. Quindi buona giornata della trasparenza a tutti.